possiamo cominciare allora va bene buon pomeriggio a tutti e siamo qui oggi perché i miei amici di Save the Children mi hanno chiesto di parlare con la direttrice eh Daniela Fatarella direttrice generale di Save the Children ciao Daniela ciao Gianluca bentrovato bentrovata e io vorrei cominciare con una domanda che di solito è banale ma che invece in questo periodo ha un significato un po' più profondo come stai? direi bene direi che siamo tutti in salute che è una cosa importantissima in questo momento noi le persone a noi vicine e comunque questo è un periodo in cui abbiamo avuto la possibilità di fronteggiare un'emergenza nell'emergenza tirando fuori tutta la professionalità e il coraggio di Save the Children a fianco dei nostri bambini e delle famiglie per cui siamo resilienti ecco questa c'è la parola giusta avete dovuto cambiare parecchio il modo di lavorare voi che siete sempre sul territorio avete dovuto cambiare radicalmente il vostro modo di rapportarvi con con questa emergenza guarda io lo racconto così dico che noi da un giorno all'altro abbiamo chiuso fisicamente i nostri centri e li abbiamo riaperti online quindi non abbiamo mai interrotto le nostre attività però da eh l'attività fisica siamo passata a quella digitale questo grazie veramente a un incredibile supporto capacità trasformativa dei nostri operatori sul campo di tutti i nostri partner e poi abbiamo da subito cominciato anche a erogare servizi diversi come la distribuzione di beni di prima necessità e di tablet e connessioni quindi ci siamo trasformati e abbiamo aggiunto e questo lavoro in così eh questo lavoro così in remoto per voi che siete così impegnati nel sociale ovviamente immagino che abbia avuto comunque un impatto tornerete presto come come pensate di gestirlo questo ritorno alla normalità? Allora noi abbiamo gestito tutto questo sotto il cappello distanti ma vicini quindi ci siamo sentiti distanti fisicamente ma molto vicini sia tra noi come staff come operatori e poi sicuramente anche con tutti i nostri ragazzi e le loro famiglie quindi dal giorno veramente uno dell'emergenza tutti sono stati ricontattati whatsapp telefono facebook youtube e però la cosa bellissima è che abbiamo riaperto adesso i nostri centri sul territorio e in particolare dal lunedì prossimo torneremo a lavorare con i ragazzi in quasi tutte le città d'italia dove siamo già presenti questo per noi forse è il traguardo più bello. No perché cioè sai anch'io ovviamente ho dovuto fare anche noi a Sky abbiamo dovuto fare questa rivoluzione abbiamo fatto anche il telegiornale da casa che è stato un esperimento per dimostrare eh che comunque si poteva fare eh immagino che cioè per noi per me almeno per me come giornalista è stato molto difficile fare questo è diventato come un lavoro un po' sterile da un certo punto di vista per voi questo è impossibile. È impossibile perché poi ci sono i bambini e i ragazzi dall'altra parte quindi ti devo dire che la creatività che è stata tirata fuori da operatori e da bambini è stata enorme tutte le tutte le cose che si facevano fisicamente in qualche modo sono state trasformate e il computer lo schermo il cellulare è diventata un'altra modalità di contatto che comunque ha permesso proprio di rimanere vicini perché quello che poi abbiamo sentito tantissimo in questo periodo è che la difficoltà dell'emergenza ha portato un po' anche un isolamento no emotivo anche e quindi la cosa più importante era proprio dimostrare questa vicinanza ti racconto una piccola cosa che ci ha colpito tutti di un bambino di uno dei nostri punti luce che è uno dei spazi dove facciamo attività di supporto educativo che ha chiamato la sua educatrice la sua operatrice raccontando che aveva preso sei a matematica e questo contatto telefonico questo fatto di chiamare subito l'operatrice per dire ho preso sei era proprio il discorso di voler tenere questo contatto e di voler essere vicini. Beh ho voluto contattarla pure io questa operatrice perché ho sempre avuto tre in matematica comunque mi avrebbe fatto comodo. Ti darò il numero? Senti no eh allora save the children ovviamente i bambini sono in primo piano e ti dico la contraddizione che abbiamo vissuto in questa crisi è stato il fatto che anche per la mia esperienza personale vi ho incontrato spesso sul campo poi sono andato nei punti luce ovviamente abbiamo lavorato insieme anche in altre circostanze di cui parleremo poi in un secondo momento però indubbiamente eh per la mia esperienza professionale i bambini sono sempre in primo piano non solo per un motivo squisitamente mediatico ma anche perché naturalmente sono eh i primi soggetti che investiti dalle grandi dalle grandi crisi umanitarie dalle guerre il covid è stata una rivoluzione anche dal punto di vista dal punto di vista sostanziale perché i bambini paradossalmente sono passati un po' in secondo piano cioè da un lato c'è il fatto che comunque erano meno esposti al contagio e per fortuna sicuramente ma se da un punto di vista sanitario sicuramente testavano meno preoccupazione voi che seguite eh come dire la povertà non solo non solo dal punto di vista alimentare ma anche la povertà educativa ovviamente vi siete trovati in grande affanno immagino con grandi eh difficoltà e allora appunto io ho avuto modo di visitare i vostri punti luce o intanto abbiamo già entrato tutto l'argomento di questo lavoro a distanza io direi se eh se siete d'accordo di vedere il un video che fa vedere appunto il vostro il vostro intervento sul campo certo ciao cari qualsiasi cosa vi viene in mente di cui voi avete bisogno noi ci siamo ciao ciao sono marco scendete ciao 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 appunto un po' quello che che raccontavi questo contatto che avete continuato comunque nonostante le enormi le enormi difficoltà è proprio così questo video racconta tutto quello che abbiamo fatto in pochissimo tempo da un lato vedi appunto Anna Paola la nostra collega che dice bambini qualunque cosa di cui voi abbiate bisogno noi ci siamo e da lì siamo partiti proprio con l'idea di essere sempre disponibili anche di intercettare tutte quelle che erano sono state le nuove esigenze che poi hai visto trasformato nella pratica nella consegna dei pacchi alimentari nella consegna dei tablet devo dire che noi abbiamo visto cambiare la situazione veramente in pochissimo tempo non sono stati mesi sono state settimane quelle che hanno poi portato tantissime famiglie in una condizione di estrema povertà e dove poi anche seguire la didattica a distanza per bambini che sono in nuclei familiari dove magari c'è solo il cellulare dei genitori e i giga di quel tipo era impossibile quindi è stato necessario essere anche veloci e riuscire a riconnettere tutti no infatti perché ovviamente tutto bello dire il mondo è moderno andiamo veloci eccetera eccetera ma non ci dimentichiamo spesso che c'è gente che invece non riesce a stare tanti soprattutto i ragazzi non riescono a stare al passo proprio una difficoltà economica perché siamo connessi sì ma deve avere la connessione internet deve avere il tablet il pc voi ho visto che vi siete impegnati moltissimo in questo in questo in questo campo in questa direzione sì perché tu come giustamente dicevi prima noi da sempre siamo stati attivi proprio nella lotta alla povertà educativa e alla dispersione scolastica e quindi nel momento in cui anche la scuola è andata virtuale la la priorità per noi essere era essere certi ed è tuttora essere certi che i nostri bambini i nostri ragazzi sono in grado di connettersi la prima cosa comunque è il dispositivo tecnologico la connessione stessa ma non solo questo però perché poi la didattica a distanza non è solamente uno strumento tecnologico ma è anche educazione soprattutto educazione quindi per noi poi c'è stato anche un accompagnamento alla fruizione di questa didattica un accompagnamento ai ragazzi anche una formazione che abbiamo fatto agli insegnanti noi abbiamo formato più di 3500 insegnanti alla didattica a distanza in questi prima tre mesi senti sempre ritornando un po' a quello che diciamo prima vabbè ovviamente sono situazioni difficili quelle naturalmente che andate ad affrontare però abbiamo parlato dell'emergenza sanitaria l'emergenza sociale però di cui noi ci stiamo occupando adesso ci sono i numeri del PIL che sono impressionanti meno 8% a livello europeo cioè la peggiore crisi economica guerre escluse anche se poi il bilancio dei morti per l'Italia è superiore addirittura ai morti del Vietnam degli americani quindi insomma stavano di un dato comunque che se non è stata guerra ci ha assomigliato a moltissimo però le conseguenze come al solito il post bellico sono sono drammatiche sono numeri che voi con cui dovete misurare c'è un esercito di bambini che rischia di rimanere indietro c'è un esercito di bambini che rischia di entrare poi in povertà economica assoluta alla prima del covid un milione di bambini in Italia in povertà assoluta uno su dieci è già un numero altissimo noi stimiamo che l'emergenza covid possa aggiungere un altro milione e quindi questo significa raddoppiare questo dato tu pensa che da alcune nostre ricerche un genitore su sette delle famiglie in particolare più fragili e vulnerabili ha perso il lavoro nei primi mesi del lockdown e noi abbiamo visto raddoppiare arrivare quindi circa un trenta per cento il numero delle famiglie che ha chiesto supporto attraverso gli aiuti governativi dello stato dei comuni quindi quello che dicevo prima è quello che noi abbiamo visto sul campo ovvero una povertà che è arrivata improvvisamente quindi un esercito in realtà di nuovi poveri che che devono essere supportati aiutati chiaramente con degli interventi strutturali nel nostro piccolo nel nostro grande perché abbiamo raggiunto più di 70 mila bambini e famiglie abbiamo comunque anche dato una mano e supportato in tutto quello che riguardava proprio i beni di prima necessità al pagamento delle utenze delle bollette e la povertà economica non è per i bambini una povertà in miniatura ma è una povertà doppia perché colpisce il loro presente ma poi va a condizionare tutto il loro futuro abbiamo visto purtroppo anche nel sud italia no con gli scippi delle borse della spesa addirittura gli assalti ai supermercati io a me ha colpito molto perché in un punto luce c'era un appello mi è stato raccontato non vi rivolgete agli strozzini non vi rivolgete a questi noi vi daremmo comunque una mano questa testimonianza comunque una situazione davvero tragica per l'italia che comunque rimane sempre l'ottava potenza industriale del mondo quindi delle contraddizioni veramente drammatiche all'interno purtroppo sì perché poi nei contesti di povertà che cosa succede che spesso ci sono degli degli inserimenti da parte anche delle mafie o della criminalità organizzata che va un po a sostituire quello che dovrebbe essere invece un aiuto chiaramente più strutturato tu facevi un giusto esempio del nostro punto luce a noi ha colpito un'altra situazione in cui da una famiglia di Napoli siamo stati contattati dicendo noi abbiamo i pacchi alimentari ma non abbiamo non possiamo pagare il gas non possiamo accendere il fornello e quindi non possiamo cucinare e quindi lì c'è bisogno di una risposta immediata perché quello è un bisogno specifico che deve essere preso in carico l'elemento che secondo me ha fatto la differenza nel lavoro di save lo ripeto sono i partner territoriali e gli operatori sul campo perché sono stati in grado di intercettare le singole esigenze e quindi di dare delle risposte che poi andavano a rispondere a quei bisogni specifici è una sfida impegnativa allora c'è questa iniziativa riscriviamo il futuro che avete lanciato sul tema delle povertà educative che poi oltre alla povertà ovviamente immediata di cui stiamo parlando poi la povertà educativa è sicuramente una drammaticità allora cerchiamo di spiegare innanzitutto in che cosa consiste la povertà educativa che non è semplicemente l'accesso alla scuola ma anche io leggo i dati dell'istat che sono abbastanza preoccupanti c'è il numero di persone non riesce a capire il testo il significato di un testo scritto che non riesce a fare delle operazioni di matematica qua parlo di me ma sicuramente voi vi allora innanzitutto volevo sapere se volevo se ci raccontavi un po' questa iniziativa rischiamo il futuro che parte nei prossimi giorni e poi ci spiegavi appunto questa drammatica situazione della povertà educativa che cosa significa perché molte persone non hanno chiaro il concetto di che cosa voglia dire povertà educativa povertà educativa e povertà materiale sono spesso due lati di una stessa medaglia quindi la povertà materiale mette spessissimo i bambini ragazzi in una condizione in cui hanno pochissimi stimoli extra scolastici ovvero non vanno al cinema non leggono un libro non fanno un corso sportivo quindi significa che non sono esposti a nessuno stimolo che li fa crescere anche proprio emotivamente quindi quelle che si chiamano competenze non cognitive e questo per un bambino è devastante perché significa che il suo orizzonte improvvisamente si chiude tu pensa che solamente un bambino su due in italia quindi il 50 per cento dei bambini non legge un libro che non sia un libro scolastico e questo già ti dà un'idea di che tipo di bagaglio informativo culturale può avere e quindi l'importante in questo caso è dare ai bambini questi stimoli questa capacità perché la lotta alla povertà educativa significa dare a un bambino la possibilità di avere le competenze scolastiche ma anche tutte quelle competenze che noi chiamiamo intelligenza emotiva la fiducia in se stessa la capacità di credere nel proprio futuro e di poterci investire questo perché perché se tu hai un bambino dai questo stimolo dai questa possibilità credi nel bambino come probabilmente in ognuno di noi qualcuno a un certo punto della nostra vita ha creduto in noi e ci ha spinto quello libera l'opportunità del domani è solamente un bambino che ha la capacità di poter fare una scuola qualitativa e avere questi stimoli poi può scegliere il proprio futuro e a quel punto anche interrompere il circolo della povertà materiale voi per questo fate queste borse di studio che sono una cosa bellissima cioè poi incoraggiate i bambini a seguire le loro passioni no sì noi le chiamiamo queste bellissime doti educative che servono proprio per inseguire le passioni credere nei propri sogni sviluppare le proprie capacità che sono uno strumento provare a fare lo chef o incoraggiare lo sport sì tutto quello che può aprire il potenziale questo non vuol dire che tutti diventeranno chef ballerini o calciatori ma impareranno attraverso queste attività a credere loro stessi e sviluppare i loro talenti le doti educative sono una parte fondamentale della lotta alla povertà educativa e ti dico che in questo periodo così critico noi abbiamo avuto addirittura genitori in particolare diciamo una famiglia ci ha colpito moltissimo a torino che ha chiamato dicendo vorrei convertire la dota educativa di mio figlio in aiuti alimentari ora chiaramente noi abbiamo fatto tutte e due le cose ma questo ti dice quanto povertà economica e povertà educativa sono veramente strettamente legati anche perché mi sembra di poter dire che sì è importante suonare uno strumento tanto quanto poter mangiare da un punto di vista no eh sì perché c'è un cibo per il corpo chiamiamolo così un cibo per la mente e il nostro obiettivo è proprio riuscire chiaramente a far sì che i bambini non debbano rinunciare a nessuno dei due e per questo come tu citavi prima noi stiamo lanciando questo nostro nuovo progetto nella fase 2 no di ricostruzione dell'emergenza che riscriviamo il futuro perché l'obiettivo è proprio quello di riscrivere il futuro di 100.000 bambini in Italia da giugno 2020 a giugno 2021 in oltre 30 città ridando loro proprio opportunità e possibilità di studiare e questo lo faremo a partire proprio da lunedì prossimo dal 15 giugno quando ritorneremo eh nei nostri spazi che abbiamo ribattezzato spazi futuro perché vogliamo guardare al futuro in cui i bambini avranno sia un supporto per le competenze scolastiche ma anche finalmente la capa la possibilità di ritornare a quelle tutte a tutte quelle attività extrascolastiche insomma l'estate dei bambini sì perché andando un po' fuori tema forse ma neanche tanto i punti luce non sono solamente un punto appunto di luce in situazioni a volte di degrado difficoltà ma sono anche un importante luogo di socializzazione a me ha colpito andando al giambellino nel vostro centro gli operatori mi raccontavano che non ci andavano solamente ragazzi in difficoltà economica ma ci andavano anche i ragazzi del vicino quartiere Solari che per chi non è di Milano insomma comunque un quartiere è un quartiere borghese tranquillo però ci andavano perché l'area è un'occasione di socialità e questo secondo me dimmi anche te comunque penso che sia una delle priorità anche per far ripartire il paese. Questo è fondamentale anche perché purtroppo il periodo del lockdown in realtà ha portato moltissimo a una perdita di socialità e di tutte quelle ripeto competenze non cognitive quindi proprio la fiducia in se stesso la creatività e i punti luce così come gli spazi futuro così come tutte le attività che noi abbiamo messo in campo e metteremo ancora di più in campo in questi giorni servono proprio per spingere tutto questo perché ripeto la differenza nel bambino è la sua capacità di credere in se stesso c'è una resilienza enorme nei ragazzi che però deve essere nutrita e poi diventa competenza fattiva e poi diventa capacità di scegliere il proprio futuro però è soprattutto il credere in se stessi che fa la differenza la prima differenza nel modo in cui si approccia la vita. Sì infatti sono dei centri poi che voi scegliete ovviamente in delle zone ma che a me hanno colpito molto questa è una cosa che mi piaceva un po' approfondire che sono molto belli esteticamente c'è una scommessa architettonica dietro paradossalmente no? Beh il bello è un elemento di educazione nel senso che essere in un posto in un luogo bello gradevole organizzato comunque fa parte anche questo di un percorso educativo poi noi come tu dicevi scegliamo questi spazi questi luoghi in realtà nelle zone che noi definiamo a bassa intensità educativa e spesso che sono anche delle zone con una criminalità organizzata più forte perché i bambini che non hanno la possibilità di scegliere il loro futuro spesso poi possono anche finire in percorsi sicuramente criminali o pericolosi e in questo caso questi centri rappresentano un po' anche un'oasi e un modo in cui crearsi una serie di legami che danno un supporto in tutte le sfere della della propria vita per questo ti devo dire che è stato poi anche sorprendente nel senso positivo del termine vedere come tutti questi legami anche nella fase del lockdown sono continuati ed è stato diciamo un un momento particolarmente positivo che ci ha proprio permesso di rafforzare anche l'intensità della relazione tra gli educatori e tra i ragazzi e le famiglie e mi piace ricordare che in un percorso educativo di un bambino la famiglia la scuola eh e gli operatori sono tutti e i ragazzi stessi sono tutti elementi estremamente fondamentali di uno stesso patto educativo noi la chiamiamo la comunità educante ovvero per far sì che un bambino possa crescere e possa portare avanti le proprie competenze è fondamentale che intorno a lui ci siano una serie di attori diversi senti Daniela eh ovviamente torniamo alla mia vecchia passione cioè gli esteri questo questo covid ha avuto conseguenze importanti su determinate aree io tornerei a parlare un po' del Somaliland dove noi siamo stati insieme e abbiamo toccato con mano una difficoltà vabbè incredibile allora il Corno d'Africa si sta misurando non solo con il covid che forse addirittura è marginale rispetto a quello che sta succedendo da loro l'invasione delle locuste sembra davvero un qualche cosa di biblico ma anche anche questa siccità devastante che sta colpendo voi che cosa che tipo di intervento state facendo là? Noi stiamo portando avanti un intervento che in parte abbiamo visto anche insieme un paio d'anni fa quando siamo andati eh che riguarda soprattutto tutta l'attività eh sanitaria e alimentare questo perché come dicevi giustamente il Corno d'Africa oggi ha già più di cinque milioni di bambini che sono eh in povertà alimentare di cui oltre un milione di bambini è proprio a rischio di morire di fame in un contesto del genere il coronavirus sicuramente ha rallentato l'erogazione di tutta una serie di servizi eh l'invasione delle delle locuste delle cavallette e anche diciamo un clima particolarmente stabile hanno aggravato tantissimo la situazione. Ciò che noi stiamo facendo ora è rafforzare la distribuzione alimentare e poi continuare in tutti quegli screening che noi abbiamo visto anche insieme sulla malnutrizione proprio per essere certi di intercettare i bambini purtroppo prima che sia troppo tardi. Purtroppo abbiamo visto un paio di volte abbiamo visto un paio di volte interventi in cui purtroppo arriviamo tardi però la cosa che mi ha colpito è stato davvero quando io ti dico il whatever it takes eh mi ha colpito questa jeep che correva nel deserto in posti che onestamente sembra che non ci fosse assolutamente nulla e propriamente sbucava questa capannuccia con quattro persone e però l'operatore sapeva perfettamente che là c'erano i bambini che erano in crisi umanitaria e che è in crisi alimentare e abbiamo visto che il sostegno viene dato non solo ai bambini naturalmente ma anche anche ai familiari. Purtroppo la Somalia paradossalmente il Somaliland è in una situazione eh drammatica dal punto di vista alimentare una crisi umanitaria purtroppo dimenticata e speriamo di riportarla di nuovo alla luce ma eh purtroppo tra Corno d'Africa e Yemen che si affaccia di fronte per esempio abbiamo un'altra crisi che per ovvi motivi anche editoriali adesso non è stata non se ne è parlato come anche in Libia ma insomma che lo Yemen stia vivendo adesso dove voi siete presenti mi stia vivendo momenti drammatici altrettanto. Guarda che si ammalano quindi di trentotto strutture che sono presenti nel paese per poter far fronte al covid trentotto sono niente in un paese del genere quattro sono supportate da Save the Children. Noi vediamo purtroppo un aumentare di persone di bambini che di perdi adulti insomma di genitori in particolare che arrivano con i sintomi della malattia e questo chiaramente va ad aggravare terribilmente una situazione già devastante in un paese in cui purtroppo il cessato del fuoco non è avvenuto. Il cessato del fuoco non è avvenuto purtroppo noi non lo stiamo raccontando anche perché le difficoltà sono oggettive per noi che per noi che dobbiamo girare purtroppo ci sono delle limitazioni enormi. Voi come come vi state muovendo come state gestendo questo tipo di situazioni con operatori sul campo ma penso che prima o poi dovrete comunque ritornare anche ad operare attivamente. Ma eh Save the Children per fortuna lavora in tutto il mondo prevalentemente attraverso operatori locali quindi le nostre persone sono sono del campo e sono sul campo oggi. Chiaramente nei vari paesi che hanno avuto un lockdown è stato rispettato abbiamo distribuito dispositivi di sicurezza le persone lo staff ha lavorato in sicurezza ma ha lavorato. Quindi così come abbiamo fatto in Italia di far fronte anche a queste nuove misure di chiusura stessa cosa è avvenuta in tanti paesi. In Etiopia così siccome noi abbiamo fatto la scuola a distanza sul cellulare è stata fatta magari su WhatsApp nelle regioni che lo permettevano attraverso la radio. Quindi di nuovo una riclassificazione in corsa delle attività però per cercare proprio di non interrompere le progettualità e non interrompere soprattutto il contatto ripeto con i bambini e i ragazzi perché la dispersione di questo contatto può poi implicare il fatto di avere bambini che si troveranno in questi paesi in particolari magari lavoro minorile piuttosto che matrimoni precoci. Senti torniamo un attimo in Italia avete comunque una mole enorme di progetti anche questo rischiamo il futuro comunque rappresenta un impegno anche finanziario come come sostenete queste iniziative? Grazie veramente all'aiuto generoso di tutti i nostri sostenitori, donatori individuali, aziende e devo dire che in questo momento così difficile in realtà abbiamo visto tantissimo supporto e sostegno da parte di tutti soprattutto i nostri sostenitori e donatori che non ci hanno abbandonato in questo momento ma anzi hanno incrementato, aumentato e ci hanno incoraggiato fortemente quindi per noi sarebbe impossibile sostenere i nostri progetti senza di loro per cui devo dire che veramente a loro va il nostro più sentito grazie perché anche in questo momento di difficoltà in cui magari anche loro sono stati oggetto del covid e di questa emergenza comunque non hanno dimenticato i nostri bambini in Italia e nel mondo. Sì mi ha colpito molto il racconto di quella famiglia che diceva noi siamo abbienti tutto sommato noi vorremmo comunque dare vorremmo dare un aiuto vorremmo comprare vorremmo comprare un tablet, un computer a queste famiglie questo è un qualche cosa che si è ripetuto spesso comunque è un episodio non infrequente per voi. Devo dire che abbiamo avuto tantissimi gesti di estrema generosità come quello che racconti tu adesso e di persone che ci hanno scritto e ci hanno proprio anche incoraggiato no perché sai poi ci sono stati dei momenti anche per noi difficili in cui abbiamo affrontato tante sfide e non ci siamo sentiti soli nemmeno noi quindi i nostri donatori, i nostri sostenitori in realtà la differenza non la fanno solamente attraverso il loro aiuto economico che è fondamentale ma attraverso la vicinanza in questo momento in particolare attraverso i nostri social, il servizio sostenitore abbiamo sentito il calore ci siamo sentiti tutti parte veramente di una grande famiglia, di una grande organizzazione dietro una missione molto forte. Quindi avete siete riusciti e questo è importante siete riusciti a rompere quello che poi è un isolamento l'isolamento dal punto di vista proprio umano e però appunto dicevo questo mi fa venire il voi siete safe the cinder il contatto umano con i bambini sicuramente per voi è un qualche cosa di fondamentale. Lo è e lo sarà sempre e in questo momento però devo dire che abbiamo trovato nell'emergenza e quindi in questo distanziamento fisico un avvicinamento emotivo e quindi tutto lo staff ha reagito io devo dire con un enorme passione verso la missione e l'organizzazione quindi nessuno si è tirato indietro anche se personalmente toccati e colpiti e con grandissima professionalità quindi ritrasformando proprio in corsa le proprie competenze e poi devo dire che questo è valido per tutti noi nel momento in cui tu lavori per i bambini nel momento in cui ci siamo trovati di fronte all'emergenza del genere noi non potevamo fermarci. Il nostro dovere era ed è andare ancora più avanti. Noi sentiamo di avere un ruolo importante in questo momento perché per far ripartire il paese bisogna ripartire dai bambini che sono il capitale umano sul quale bisogna investire. Sai il filmato lo dimostrava che voi comunque sul campo ci siete stati perché voglio dire quelle erano immagini che rappresentavano proprio voi che appunto che intervenivano che intervenivano sul campo. Voi non avete avuto operatori colpiti oppure sì? Non abbiamo avuto operatori colpiti. Devo dire che è stato anche questo un motivo per il quale ringraziare la situazione come sia voluta per noi e i nostri operatori. Devo dire che abbiamo cercato il più possibile chiaramente di farli agire nel portare avanti la loro operatività sicuramente in situazioni di protezione e di grande sicurezza. Quindi abbiamo dato anche grande attenzione alla sicurezza e continueremo a darlo soprattutto adesso che comunque riapriamo anche i nostri bambini. Senti una domanda personale. Tu sei direttrice generale da gennaio. Insomma ti sei trovata subito catapultata in un'emergenza storica. Come è stato dal punto di vista umano e professionale? Per tutto umano direi. Umano all'inizio è stato come essere messi in un frullatore e vedere schiacciato il pulsante e per un attimo chiedersi e adesso e poi per fortuna nelle emergenze così come abbiamo imparato insomma nel mestiere che facciamo parte all'inizio una sorta di pilota automatico e quindi si va all'obiettivo e tutto alla fine diventa estremamente focalizzato e anche molto lucido. però devo dire che la differenza in Save the Children la fa la squadra e l'ha sempre fatta e continuerà a farla. Cioè questa è un'organizzazione che è fatta da tantissime persone con competenze diverse e con grandissima professionalità e umanità e quindi da un punto di vista personale quello che per me ha fatto la differenza è poter lavorare con un team del genere e vederlo sempre così appassionato e motivato. Quindi sì è stata una bella sfida che non è finita siamo ancora in mezzo a questa emergenza però pensiamo anche di aver trovato una serie di chiavi di lettura rispetto a quello anche che deve essere il nostro ruolo e come poterlo portare avanti. Senti allora mi segnalano che ci sono delle domande di chi ci sta seguendo e chiedono se lavorate con i partner locali sui territori. Assolutamente sì, i partner locali sono la nostra forza. Se noi abbiamo potuto fare ciò che abbiamo fatto è solo grazie ai partner locali. Noi abbiamo oltre 41 organizzazioni partner e sono coloro che ci hanno permesso veramente come diceva all'inizio di chiudere fisicamente e di riaprire virtualmente. È stato grazie alla presenza sui territori, alla grandissima capacità, resilienza e inventiva dei nostri partner che noi siamo andati avanti e lo stiamo facendo anche ora. Guarda sto vedendo in molti commenti e devo dire che la cosa che mi colpisce di più è vedere che ci sono molti ringraziamenti per il vostro impegno sul campo. Quello che dicono è ritornate per favore, ritornate al contatto con i ragazzi e ovviamente penso che sia un appello che per voi non c'è neanche bisogno di farlo. Dal lunedì saremo di nuovo lì, assolutamente. C'è la lunga estate davanti, è una grande sfida anche perché parlo da padre di numerosa prole e sicuramente l'estate rappresenterà una sfida per voi. L'estate è la prima delle sfide di questo ritorno alla nuova normalità. Per noi l'estate è l'estate dei bambini, quindi come Save the Children vogliamo aprire più di 60 spazi futuro che sono queste isole didattiche che serviranno proprio a supportare un accompagnamento allo studio ma contemporaneamente anche riprendere la socialità e per noi sono un ponte con la ripresa poi dell'anno scolastico. Quindi vogliamo veramente restituire gli spazi della socialità ai bambini e rirenderli nuovamente protagonisti perché se è vero che questa emergenza non ha impattato per fortuna sulla salute dei bambini da un punto di vista fisico emotivamente è stata molto difficile per loro, bambini che hanno confuso il giorno con la notte e soprattutto bambini che adesso devono essere rimessi al centro perché sono i veri protagonisti. Sai, mentre parlare mi viene in mente appunto i bambini che sono, cioè quelli che erano nel tablet e quelli che sono stati attaccati a degli schemi praticamente per tutto il giorno perché anche senza colpevolizzare i genitori fisicamente per loro era impossibile stare dai bambini, quindi è una situazione molto difficile. Però io adesso vorrei parlare un po' del ritorno a scuola, il plexiglass, le mascherine, le turnazioni, questo devo dire che io ancora onestamente pur leggendo dieci giornali al giorno per mestiere non ho capito bene come si rientra a scuola e per voi questo ovviamente è un'altra sfida enorme quello di questa ripresa della didattica. Lo è, chiaramente non c'è ancora una certezza su quale saranno le norme, le regole per ritornare a scuola, però noi sicuramente due cose che vogliamo fare che stiamo già facendo, lavorando con una rete di scuole molto ampia che noi abbiamo, sono sia quella comunque di far leva sulla didattica a distanza e quindi di prenderci anche un'esperienza positiva se vogliamo da questa situazione che è come costruire, come rendere questa una leva della didattica in generale e poi supportare nel ripensare gli spazi educativi perché anche questo sarà una sfida poi a partire da settembre. Quindi il nostro lavoro con le scuole non è mai smesso, anzi dicevo prima che in questo lockdown oltre 3500 docenti formati sulla didattica a distanza. Tra cui molti volontari hanno dovuto imparare anche questo tipo di didattica da certi punti di vista o hanno sostenuto o comunque vi hanno coadiuvato. I volontari sono stati fondamentali e a loro va un grandissimo ringraziamento per tutto quello che hanno fatto perché non si sono fermati mai nemmeno loro e in particolare si sono spesi tantissimo nel supportare tante delle attività che abbiamo fatto a distanza e poi adesso ancora di più sono al nostro fianco perché in questo progetto di Riscriviamo il Futuro noi prevediamo anche di avere un accompagnamento allo studio per i ragazzi, per i bambini che possa essere fatto proprio da volontari e poi possiamo unire volontari e bambini di luoghi diversi d'Italia perché lo faremo attraverso il digital, quindi in questo caso uniremo tante connessioni diverse. Volontari grazie mille perché sono stati essenziali. Senti, che impressione ti ha fatto questo fine anno scolastico a casa? Per me è stata una tragedia perché voglio dire forse è l'unico momento in cui ero felice di andare a scuola. Che impressione ti ha fatto? Beh, penso che abbia fatto un po' un'impressione come a tutti di grande un po' tristezza. Tu pensa che noi il fine anno scolastico lo festeggiavamo nei nostri punti luce, in tantissime modalità anche proprio relazionali con i bambini. È stato però, come dire, la fine di un nuovo inizio, ecco se vogliamo vedere una cosa positiva perché noi l'abbiamo vissuto con l'idea, tra poco però ritorniamo con i bambini negli spazi futuro. Quindi si è chiusa la scuola, ricomincia l'estate dei bambini. Forse si può pensare a qualcosa nel primo giorno di scuola, per sostenerli dal trauma di ritornare sui banchi dopo tanto tempo. Sicuramente ci vorrà un accompagnamento. Al di là del trauma diciamo che ci sono poi tanti bambini, soprattutto quelli che magari hanno vissuto nelle zone più colpite dal Covid, ma anche gli stessi docenti. Quindi questo è un altro lavoro che noi faremo come se decidere, proprio di accompagnare genitori, studenti e docenti alla ripresa dell'anno scolastico, che comunque sarà un anno scolastico sfidante. Senti, il sostegno dei privati, abbiamo parlato, ma anche ci sono state molte aziende che vi hanno dato un sostegno. Devo dire che sì, anche le aziende sono state assolutamente al nostro fianco, in questo momento ne abbiamo avuto tante, da Bolton, Bulgari, Ikea, molte aziende che comunque si sono affiancate alle nostre attività e che ci hanno permesso comunque di far fronte all'emergenza, anche perché spesso è importantissimo riuscire ad avere quei fondi che ti permettono di essere immediatamente operativo e quindi le aziende ci hanno dato questa possibilità. Senti, a proposito delle domande, ce n'è una che in effetti, Elena, domanda, come gestite i bambini nei vostri centri durante l'estate seguendo le norme di distanziamento? Bel rebus? Beh, sicuramente è un rebus e come si faranno gestire i bambini sarà un'altra sfida, però diciamo che noi abbiamo fatto tantissima formazione agli operatori su tutte quelle che sono le linee guida, abbiamo predisposto i centri con tutte le misure di sicurezza, tutti i percorsi, poi la sfida vera sarà mantenere il distanziamento, far sì che i bambini tengano le mascherine tutto il tempo, quindi abbiamo tutta una serie anche di attività didattiche e di gioco che stimoleranno un po' questo rispetto delle regole. Beh, io che ho due bambine di cinque anni ti assicuro che le mascherine sono veramente una bella sfida, le tengono più o meno i primi cinque minuti, poi dopo ce l'hanno sull'orecchio, sul mento e così via dicendo. Le andiamo a dire bellissime, perché siano proprio una cosa da indossare e da tenere perché piace. Beh, ovviamente, questo è sicuramente uno degli impegni. Quali sono poi gli altri obiettivi che vi siete posti, a volte a ritornare in contatto con i bambini, rifare ripartire tutto questo, poi la vostra attività non è solamente questo, ci sono anche altre iniziative. Guarda, noi appunto, così come non abbiamo fermato nulla, continuiamo su tutto. E questo che vuol dire? In particolare in Italia tantissimo anche sui minori stranieri non accompagnati, quindi questo è un sostegno che noi abbiamo dato e continueremo sempre a dare. E poi ti devo dire che anche moltissimo sull'estero, quindi tutto il lavoro che noi facciamo nel mondo, che oggi forse viene meno raccontato, però come dicevi giustamente tu, ci sono tutta una serie di situazioni che non miglioreranno, ma peggioreranno, anche perché l'effetto del covid è più grosso, che tutti ci aspettiamo con estrema paura, è in realtà vedere perdere quei progressi che il mondo ha fatto negli ultimi vent'anni, lato povertà, lato vaccinazioni, lato educazione, quindi il lockdown in questi paesi ha drammaticamente piegato le economie, quindi il numero dei poveri, il numero dei bambini che andranno fuori scuola, tu pensa che si teme di ripeter tornare ai livelli della malaria vent'anni fa, ecco, quindi il nostro impegno a livello internazionale sicuramente non si ferma. Ma sai, io penso, mentre parlai, pensavo a Meninos Darua, un fenomeno che sembrava essere tornato vagamente sotto controllo, sono andato in Brasile un anno fa per l'elezione di Bolsonaro e mi raccontavano appunto di questa, il dramma adesso, soprattutto a luce di quello che sta succedendo in Brasile, è che invece purtroppo dove il lockdown non viene minimamente rispettato, il problema è che molti genitori muoiano o molti minori vengano abbandonati. Sì, ci sono tantissimi problemi che impattano i bambini, come dicevi tu, la perdita dei genitori e quindi il rischio di rimanere da soli, di dover far fronte quindi a tutta una serie di pericoli, però anche a volte il pericolo opposto, ovvero tanti genitori che per paura del contagio magari mandano i figli a lavorare al posto loro, quindi un aumento anche del lavoro minorile, cioè i bambini soprattutto in tutte queste zone del mondo sono esposti veramente a tantissimi pericoli che sono accentuati dal coronavirus, magari non al livello della loro salute, ma sicuramente al livello della loro protezione e poi dell'educazione. 250 milioni di bambini non vanno a scuola ad oggi in Africa per il lockdown e ci chiediamo quanti di loro ritorneranno quando riapriranno le scuole. Contando le difficoltà territoriali che ci sono, perché a volte ci dimentichiamo di dire che i bambini per andare a scuola devono fare 10 chilometri a piedi, in condizioni estremamente complicate. Senti, c'è un'altra domanda che ci porta, vabbè, ci porta un po' fuori, però, allora, Marta domanda, qual è l'iter per poter diventare un volontario di SAVE? Basta andare sul nostro sito, c'è un numero di telefono e un'email, e scrivere e saranno ricontattati. Bene, allora, sicuramente, quanti sono i volontari? Sono un esercito? Sono più di 2.500 sparsi su tutto il territorio. 2.500 ragazzi, e non solo, poi bisogna dire, che si danno da fare per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni. Vedo che continuano alle domande, appunto, per sapere come scriversi, come aderire, vedo che ci sono tante interazioni e questo è molto buono, anche se devo dire che fondamentalmente stanno ovviamente ringraziandovi per il lavoro immenso che avete fatto in questa realtà drammatica, il coronavirus. Visto che direi che siamo più o meno in chiusura, io, qual è l'esperienza che ti ha, il racconto che ti ha colpito di più e l'esperienza che ti ha colpito più personalmente? In questo periodo devo dire che l'esperienza che mi ha colpito di più è quella che raccontavo prima della mamma di Torino che ha chiamato dicendo possiamo convertire la dota educativa in beni di prima necessità, perché secondo me se una mamma chiama per barattare l'educazione del figlio con il pane da mettere a tavola, questo è un paese che si deve fare qualche domanda e noi comunque, tutti noi, semplici children in primo luogo, ma tutti noi abbiamo una responsabilità che questo non accada mai, perché quel bambino ha tutto il diritto di mangiare e di studiare e di avere poi le opportunità per il proprio futuro, deve scegliere cosa poter fare da grande, deve poter uscire da quel circolo vizioso e quindi mi ha colpito questo, così come mi ha colpito sempre in questa storia, la grandissima capacità di gestire con estrema gentilezza e accoglienza e accompagnare questa mamma e la sua bambina nel superare questo momento di crisi da parte dei nostri staff locali, dei nostri partner locali. Ci vuole umanità ed empatia. Senti, io ho visto sul vostro sito che rilanciavate moltissimo un video che ha avuto un enorme successo, il bambino rapper. Ah, vabbè, lui è stato fantastico, devo dire che è stato un momento di grandissima gioia anche un po', perché la capacità di questo bambino, di uno dei nostri punti luce qui a Roma, che ha inventato questo rapper sul coronavirus e che l'ha fatto in una modalità estremamente creativa, divertente e ha spopolato, ed è stato anche in questo caso un bellissimo modo di comunicazione. E un po' il coronavirus visto dagli occhi di un bambino, con una spinta enorme a volere comunque anche in quel caso vedere il post, cioè che cosa si può fare per uscire dal coronavirus. Quindi è stata un'esperienza bellissima. No, fra l'altro ho avuto degli endorsement altissimi, cioè di rapper e trapper di altissimo livello. Probabilmente si prepara un futuro positivo per lui. Sicuramente ha una marcia in più dal punto di vista proprio di creatività, di capacità espressiva e devo dire che oggettivamente siamo rimasti tutti super felici di vederlo così supportato da nomi importanti che speriamo possano comunque continuare a assegurire le sue avventure. Va bene. Allora, io direi che se non ci sono domande, controllo un attimo se ci abbiamo qualche domanda, vedo che comunque ci sono molte interazioni e questo è sicuramente una cosa che ci fa piacere. Certo, sì, volontari, ma non solo ragazzi, ci sono anche adulti che hanno a cuore il benessere dei bambini. Siamo tutti ragazzi. Benissimo. Allora, grazie Daniela, spero che naturalmente, come dire, di aver potuto dare anch'io una piccola mano, ma soprattutto di aver potuto far capire il vostro impegno sul territorio che è fondamentale. Grazie a te Gianluca perché tu ormai sei un amico di Save the Children e ti ringrazio per dare sempre così bene voce alle nostre iniziative, a quello che facciamo e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e che soprattutto ci hanno supportato e sostenuto in questo momento e rimanete con noi perché ancora dobbiamo fare tante cose. Grazie e arrivederci a tutti. Ciao. Ciao.